ciao a tutti ragazzi oggi faremo i biscotti di... che giorno è oggi? quindi faremo l'impasto della pasta frola solo che aggiungeremo un po di lievito e un pochino di buccia di arancia via allora noi metteremo farina 270 gradi e sì 270 di farina mettiamo dentro la planetaria? tutta poi 125 di zucchero due uova chi li mette? io ce la fai? aspetta levalo alzo olè bravissima ok un pochino di scorza d'arancia questo lo faccio io se non ti fai male giusto per dare un po di buon sapore un pochino di lievito uovo non tutta la busta basta ok e 125 grammi di burro che lo mettiamo lì un pochino di canella e quindi facciamo girare tutto se volete lo impastate a mano però ci vuole troppo tempo ci fa prima così trasferiamo l'impasto qui aspetta lo rovesciamo l'occhio e lo impastiamo un po' a mano ora lo impastiamo un pochino vai l'impasto ancora non è pronto morbido vero? si attacca morbidissimo e poi faremo i costumi per andare a fare dolcetto scherzetto la mia nonna facciamo il fantasma prendiamo l'uovo per la nonna e lo tieni in mano e si dice nonna dolcetto scherzetto se dice scherzetto cosa faremo un luogo? lo porteremo addosso a lei povera nonna invece se dice dolcetto nulla riceviamo i dolcini che ci da la nonna e basta vero? me lo dolcetto e scherzetto così ne mangiamo un po' i dolci e se dice dolcetto scherzetto? eh ma lei deve scegliere o il dolcetto o il scherzetto se ti dice dolcetto vuol dire che ti regala i dolcini se ti dice scherzetto allora tu devi fare uno scherzo staremo a vedere eh? cosa sceglierà la nonna? secondo me ti dirà dolcetto dolcetto e scherzetto ok ecco qua il nostro bagnotto io ora faremo prendiamo metà e proviamo a stenderlo che vanno in giro dai nonna a pregarli un semplice bicchiere facciamo tutte le fornette poi ci aiuteremo con dei beccucci dello sac a poche insomma per fare gli occhi e la bocca bisogna lasciarli un pochino e per esempio questo lei sotto e va coperto con la faccina sopra due tre quattro vai questi due facciamo guarda come fa la mamma uno facciamo due occhi ok vai fallo anche te e quindi questi vanno in forno a 180 gradi per un quarto d'ora circa nel frattempo ne faremo degli altri cosa deve fare? uno spaghetto no 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 daddy no ok 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 fai vedere tua? wow bene Sofi brava sono bellissime quindi ora raccontiamo quante faccine abbiamo fatti per chi va fatti ora è sotto ecco mamma wow bello bravo amore voglio fare un'altra faccina vai che ci carino se no si attacca ecco qua li abbiamo cotte e quindi li dobbiamo comporre quindi noi useremo la nutella che ci nutella e la marmellata di fragole a me non piace come no mi piace questa e quella qua bisogna mettere la nutella guarda lì ok allora la nutella e poi metteremo sopra tutte le faccine tipo questa vai mettiamo la faccina sopra ecco qua ecco qua ecco qua il nostro primo biscottino voilà vai un'altra ecco qua ecco qua il nostro risultato mi fa smangere uno come ti sembrano bene buoni io voglio prendere questa la mia preferita vai assaggiamone uno vai non buono fanno assaggiare mmm buono ragazzi se vi è piaciuto il nostro video mettete un bel like e poi iscriveteci al nostro canale ok, ciao a tutti buon halloween ciao